Andiamo? Andiamo. E allora? Cinque. Ma andiamo. Quando mi dici andiamo io parto col countdown. Sì, ma almeno se mi spegne il micromolo. Cinque, quattro, tre, due, uno. E il politicamente corretto... Cinque, quattro, tre, due, uno. E il politicamente corretto, e la cancel culture, e la cultura woke, e il linguaggio incontro... Ho detto linguaggio, e mi sono rotto la gola. Va così, va così. Ok. Cinque? Foriero di clip questa roba qua. Cinque! Quattro...